ecco ci troviamo nel lato nord dell'aeroporto Gabriele d'Annunzio di Montichiari questa qui dovrebbe essere la porta di accesso per il pubblico che si farà il 5 ed il 6 settembre per il Brixia Airshow questo qua è l'hangar Siracusa di Interfly e questa dovrebbe essere l'area che verrà adibita per l'accesso del pubblico dovrebbe esserci anche dei cordoni che impediranno la gente di accedere alla pista ecco laggiù abbiamo il casermone e questa la via di accesso della gente che però entrerà a piedi da qui perché chiaramente non è possibile accedere qui diversamente verranno delle navette verranno si prevedono 20 30 40 50 mila persone ma poi dipenderà un po anche dal tempo che ci sarà ecco qui chiaramente c'è già questa cinta che quanto meno protegge e questa dovrebbe essere un po l'area che verranno a sistemare nei prossimi giorni comunque il Brixia Airshow è stato già deciso ne abbiamo già parlato sui giornali sulla stampa questa qui è l'area vi riporto anche all'altra intervista fatta credo tre mesi fa al nostro amico Marco Balzarini titolare dell'Interfly che ha a disposizione questo hangar per il suo lavoro vi ricordo che Interfly è l'unica azienda aeronautica che può utilizzare per motivi di taxi per motivi pubblici per motivi aziendali questa aeroporto ecco ecco per cui oggi è il giovedì 27 agosto mancano pochissimi giorni ecco vi ripromettiamo di venire tra qualche giorno a fare un'altra visita per vedere il punto dei lavori a fare un'altra visita per il mio